Burrito con ragù bianco, crema e formaggi e salsa di cavolo viola. Scaldiamo il ragù bianco per alcuni minuti. Aggiungiamo la crema e formaggi, continuando a scaldare. Ora che è amalgamato, spegniamo e lo togliamo dal fuoco. Scaldiamo la tortilla per alcuni minuti nella padella calda. Farciamo la tortilla con un po' di lattugino, il ragù bianco e la crema e formaggi, i pomodori tagliati ai cubetti, il mais e infine la salsa di cavolo viola. Chiudiamo arrotolandolo in questo modo. Tagliamo a metà e andiamo a servire. Il piatto è pronto.